dicevo questa è tutta colpa di ryder vedete il cable management il risultato e ogni volta attaccare e staccare comunque dicevo avevo detto non ci gioco a wolong perché sono una pippa ma poi mi sono anche detta perché devo privare i miei iscritti loro si sono iscritti proprio per vedere questo tipo di contenuti midna che muore continuamente siamo d'accordo o no non vi siete iscritti per questo motivo ragazzi quindi adesso giocherò a wolong confermi meridio i tuoi due due anni le fatti per midna per midna che muore cominciato cinque minuti prima perché siccome si deve creare il personaggio allora non mi metterò a perdere tre ore di tempo ragazzi tanto è sempre tipo un po versione asia facciamo un personaggio figo senza perderci in troppi tanto non mi viene super somigliante va bene io un po l'ho giocato però ragazzi pochissimo ai ai tra l'altro ragazzi non ho giocato nemmeno la demo allora ragazzi cominciamo ripeto per chi si fosse collegato dopo e io ragazzi nei souls like sono una merda ah le scene le salto ragazzi le avete viste oggi con raiden facciamo skip di scene va bene ragazzi facciamo finta che in un'altra di in un'altra realtà alternativa io da vecchia sono una figa incredibile basta va bene abbiamo il mio personaggio ragazzi pronti su partenza skip skip dai scene skip eccoci qua con la vostra midna i capelli bianchi ragazzi super figli i capelli bianchi vasetto cura di dragone sono tipo le fiaschette estus no attacco normale attacco di spirito ecco già abbiamo cominciato scaglia di forza vitale se non sbaglio la scaglia di forza vitale è tipo quella che serve per darti le anime quando devi livellare un'altra che vuoi devia devio deviato e mi ha fatto salire di rango da 0 a 1 quell'uno che c'è vabbè i mob sembrano molto più facili rispetto all'ultima parola famosa per il momento sono facili il tuo grado morale influisce sulla tua forza di combattimento io ora c'ho uno allo stesso modo un nemico un nemico è più pericoloso quindi quelli quanto hanno tre ma porca miseria ma sta salute quando me l'hanno tolta pensavo che non mi avessero toccato devio un colpo critico ah si 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 prende col colpo critico subito si stunnano e dove devo andare dopo aver riposato nei pressi di una bandiera i tuoi pv bla bla prima prendo questo messaggio dei banditi vediamo questo è l'orraga ma che devo fare riposa ah che bello riposa potenziamento ecco che cosa potenzio boh facciamo il verde dai mi potenzia l'arma infatti la salute difesa spirito durata incantesimo però questo aumenta la deviazione cioè aumenta lo spirito quando devi forse è meglio terra vabbè intanto facciamo legno dai ah qua c'era la tigre che raiden voleva ammazzare a tutti i costi non ci riusciva ci proviamo noi sto cavolo è quello che ho capito io conviene esplorare il più possibile la mappa in modo da sbloccare più bandiere possibili e il vostro grado minimo si alza così anche se morite rimanente di un rango più alto e più un rango più alto il vostro rango più potete difendervi cioè più siete forti ecco vedete il grado tempo aumentato di 4 quindi potrei già provarci adesso quella tigre solo quella tigre era tipo 15 quindi mi sembra un po' eccessiva la differenza vabbè ci proviamo raga vediamo un po' ci proviamo una volta se vedo che proprio non è cosa lasciamo perdere già vi dico che non è cosa ma che cosa ho fatto dovevo farla di stealth dove si andava ah non lo stavo ma dov'è che fai ma il mio compagno eeeh vabbè ah sì ciao no però lo devo provare facendo stealth ehi piano piano micio 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 madonna hai fatto ammazzare tu? manco una parata mi è riuscito madonna è un animale però secondo me si può fare non adesso più avanti ston vicendo il leader ma nonna sarà fortissimo questo morto scusate io ho un attimo la tachicardia allora potenziamento secondo me ci si dovrebbe specializzare in qualcosa vabbè facciamo fuoco dai bisognerebbe vedere le armi che si hanno in cosa scalano e tutte queste cose qua che io non mi fanno confondere ah ma qua c'era il boss no raga vabbè dai per il meme questo ragazzi ci ho già provato eh no no aspetta facciamo la magia che fa la magia? no se facciamo gli aggressivi lui non si muove stai zitto mi ammazzo cristo no certo stavo facendo un attacco non ne potevo fare un altro amico mio comunque la telecamera a volte è disastrosa eh aspetta prima fase e c'ho solo due fiaschette come cavolo si chiamano no questa qua non mi sa che non posso più oh mio dio i tempi i tempi il pattern non lo so lo meno male no 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 midna stai sbagliando devo imparare il pattern oh un colpo e mi sputa no peccato sconfitta devastante il maledetto mi trolla dai scusatemelo prima morte o seconda quante volte sono morte due forse che è successo a twitch ragazzi? canali che spariscono live che si interrompono e ricompaiono? veramente? ma che cosa vuol dire no? come faccio a capire il tempismo se non vedo cosa sta facendo? oh madonna becchere ma pure la mia live quindi non state vedendo certo se non la state vedendo non mi state potendo rispondere quindi sto giocando che per nessuno no? no ora se per caso lo ammazzo dovete guardare non esiste che non guardate dovete guardare ma la tua madre com'è? me lo dici? io una mezza idea ce l'ho ho provato l'altra arma effettivamente forse è un po' più forte per fare l'attacco è tutto di tempismo madonna sto sudando nooo non ci credo non ci credo non ci credo quando fa queste due di fila dente sono morte di nuovo chris l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto mi devo togliere sta felpa raga ho ho E in tutto questo non l'avete visto? Perché ci sono problemi di Twitch Beh, skip shane, skip shane, dai Skip shane, skip shane Tocca rifarlo, no? Anata Questo è morto, quindi, no? Il ragazzo Questa in teoria è vecchia, no? Skip, skip shane, skip shane Eh, elmo dragone acquattato Ma questa non è la ricompensa per la demo Io non l'ho confinita la demo Ma non l'ho manco iniziata Non l'ho manco guardata, proprio Eh, vabbè Non ci perdiamo in chiacchiere Ah Facciamo virtù metallo, dai Così, sto facendo un po' di tutto Non si fanno così le build, raga Non si fanno così le build Inizialmente è un equilibrio Anche perché non so bene Cosa cambia Tra una cosa e l'altra Ci sono tipo contadini Che però li ammazziamo Pezzo di Vediamo ste bolle Niente di spettacolare Niente di spettacolare le bolle Eh, depreda Eh È arrivato il figone Zao Yun Zao Yun Se non è si deve mettere in cinese Non in giapponese Non ha senso E sono bella Non ho detto niente Vabbè Vabbè Una regia ottima Zao Yun Adesso è amico mio Non c'è niente Niente qua Piano Poverino Ma che me l'aveva fatto? Che cosa mi aveva fatto di male Costui? Costui? Ma Di qua non devo andare Dove devo andare? Eh, posso già Livellare Però ragazzi Devo capire Su che cosa Devo Devo Spendere Perché Questo io Non lo capisco Benissimo Siamo legno Ok Va bene E proseguiamo Per permesso Io vado negli anfratti E scopro infatti cose Signori Ah ma prima Prima c'era quello Che parlava Ah ok Headshot Ah ragazzi Ma qua ci si perde Che c'è? Mi sta guardando? Non muoiono subito Ok Ma io un attivino Stavo Va bene Vado su quello Da 6 No Mi sa che è morto Midna Non puoi cadere Ogni minuto Ogni passo Allora Questi qua li dobbiamo Ammazzare Per liberare Quella bandiera Questo non mi ha visto? Ok Secondo me Ho fatto La maggior parte Perché da qua Ci sono stata Andiamo Sta Bandiera Grazie Kit e Lord Per l'abbonamento Regalato Madonna mia Cosa Ha fatto Dico Di qua C'era solo La bandiera Sì Quindi se ti maledetti Li devo affrontare Per forti L'hai ammazzati tu? No Te l'hai lasciato vivo Ah Qua c'è il boss Matematico Qua c'è il boss Perché l'ho visto da Raiden Tra l'altro Se non erro Quest'altro boss È fortissimo Fortissimo Vabbè In caso ragazzi Cioè Abbiamo fatto Un'ora e mezza Se dovessi morire Tipo Cinque volte Basta Oppure Fino anche Non muore Eh sì Sì È lo simbione Che bello Eh ragazzi Mi dovete dare il tempo Di capire Di che morte Devo morire Che ho fatto? Ah ok Era sfornato Non so quanto siano Efficaci Ste stregonerie Fare la vita Faccio cose a caso No a me A me Questa a me La devi fare Scemo Non l'ho parata Neanche questa Non l'ho parata Quello è morto È morto Nooo Non l'ho parata Potevo attaccarlo Così Ah manca poco Odio Quest'ansia Ah Forse try Ora raga Mi fa male la testa Pormire da vomitare Mi sento male Ho la febbre Non è da vomitare Ho la febbre Mi sento male Sto vomitando C'è una faccia di Sì vabbè raga Io tutte stesse le ho già viste Quindi vorrei saltare Solo che voi Non le avete viste Io ho visto fino All'altro boss Ma skip Infatti Se ne frega Allora Mi ha dato il potere Del cristallo di luna È la bestia divina Quello che ho invocato Prima Quando c'era Quell'altro mostro 3.800 Bandiera è stata Riposa Facciamo terra Non la sto facendo bene La cosa del farming Spero che dopo Si possa rispeccare Comunque perché La sto facendo Veramente a caso Viste divina Ma qua c'è la fabbra Scusi fabbra Beh no Non può fare niente La fabbra Ma questo che è arrivato Così di spawn Mi da tanti oggetti Anche che ho già 17 Io faccio così Madonna che mira Madonna che mira Andrano a fare queste cose Ti odio Ragazzi fate finta Che non avete visto È come quello Che ho preso sotto È livello 20 Ok Oh io ho tolto un sacco Un sacco No 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 Aveva Gli mancava Gli mancava Uno Uno sputo Guardate dove mi fa ripartire Andiamoci cauti attorno come ho fatto prima Madonna Midna No No mi ha aggrato E' fortissimo L'ho ucciso Ok quindi Ho sbloccato Guarda che muoio per questo qua No Ah è l'altro boss Questo mi pare che il Raiden l'ha fatto first try però Vuoi dire Midna ti prego Questo Raiden mi sa che l'ha fatto first try Skip Skip Madonna sti tutorial E' lentissimo Non capivo Il tempismo Aspetta devo capire un attimo come si muove Lento comunque Franne quando fa così E ti faccio questa Oh gli ho tolto un bel po' Gli ho tolto un bel po' Madonna Midna Midna Non ci siamo Guarda è diversa questa Ah due di fila Me ne fai Ma allora sei veramente Stupido Sono molto Cauta Ne convengo Ragazzi ma la top Midna Deviare L'ultima parola Famosa Magari prima o poi devo attaccare Che dici Non mi fido Ancora non è morto Sto maledetto Forse questo è un gioco con cui mi trovo bene ragazzi Le rinforzi puoi ora chiamare E io dico ragazzi Da qua in poi non ho visto proprio niente Non ho visto niente Non ho fatto niente Quindi non so Per me qua è totalmente blind Totale Adesso ho Zanfei e Guan Yu Ne ho due Però ragazzi Io stacco qua Nel senso che Come tutti Source like Mi mette sempre molta ansia Quindi Mi mette sempre molta Io odio questa sensazione Anche se me la sono cavata egregiamente Pensavo di morire molto di più A piccole dosi per me A piccole dosi Non è un gioco rilassante Eh va bene ragazzi Ringrazio tantissimo Ciao ragazzi